ciao a tutte e benvenuti su bia il magazine di abilmente io sono emanuela esposito ma le miei followers mi conoscono come la mamu oggi il piacere di presentarvi un paio di orecchini che realizzeremo insieme vi dirò alcune anche alcune varianti per cambiare leggermente il risultato finale ma andiamo insieme a vedere l'occorrente allora io utilizzerò il filato lumina 6 colore 7272 di tessiland è un filato per realizzare gioielli tessili cristalli da 3 millimetri o 3 millimetri e mezzo io vi consiglio appunto misure piccole perché il risultato a mio avviso è più delicato più carino ma nulla vieta che possiate provare a realizzarli anche con cristalli da 4 millimetri come quantità io ora utilizzo in due colori differenti ma potete utilizzare un unico colore e occorreranno almeno due due fili interi di cristalli poi ci serviranno delle monachelle ovviamente della tipologia che preferite ce ne sono tantissime ognuno sceglierà il suo degli elementi decorativi anche questi a vostro gusto utilizzeremo degli anellini dei chiodini è il mio immancabile uncinetto della clover da 1 e 50 poi ci occorreranno un'ago apribile per infilare i cristalli se eventualmente non avete l'ago potete bagnare con l'attac quello col pennellino un 5 6 centimetri di filo in modo tale che asciugando la colla indurisca il filato e possa fungere poi d'ago ci occorrerà una forbice utilizzeremo anche delle pinze tecniche che per aprire degli anellini e fare diciamo la chiusura dei chiodini ci servirà anche la colla asulit per andare poi a chiudere il lavoro sigillarlo per bene allora andiamo subito ad iniziare e vediamo i primi passaggi allora andiamo a prendere il nostro filato lo inseriamo nell'ago apribile e andiamo ad inserire i cristalli se avete i cristalli dello stesso colore potete tranquillamente inserire tutti e due i fili di cristalli poi sicuramente qualcosa avanzerà se invece utilizzerete due colori andrete ad inserire queste quantità di cristalli allora eccomi qui sono tornata i cristalli da inserire sono i seguenti allora se utilizzate cristalli tutti dello stesso colore vi andate ad inserire 157 cristalli se li utilizzate in due colori differenti andrete ad inserire 63 cristalli di un colore e 94 di un altro ok io ho scelto di mettere 94 di questo colore che saranno quelli che vanno sopra allora vi faccio vedere il risultato di questi orecchini che avevo fatto già praticamente un anno fa oggi ho deciso di di rifare il tutorial per tutte le amiche di via in modo tale da fare anche un colore un po più estivo il risultato praticamente che andremo ad ottenere è questo quindi ci saranno due diciamo elementi che andiamo a unire ce n'è uno che andrà sopra e ce n'è uno che andrà sotto quindi a seconda del colore che volete far capitare sopra quello di sopra sarà più grande e necessita di 94 cristalli allora mettiamo il filo lasciamo una codina di 10 15 centimetri per far sì che abbiamo poi il modo di chiudere con facilità cosa andiamo a fare mettiamo il filo sul dito la parte corta verso di noi la parte lunga dall'altra parte inseriamo l'uncinetto l'uncinetto tra il dito e il filo facciamo compiere un giro si forma un cappio lo andiamo a fermare con il pollice prendiamo il filo sul dito lo facciamo passare attraverso il cappio poi stringiamo leggermente e abbiamo fatto la nostra prima catenella a questo punto andiamo ad avvicinare 9 cristalli li andiamo a chiudere con una catenella quindi prendiamo e passiamo attraverso il cappio che avevamo sull'uncinetto la maglia che abbiamo sull'uncinetto l'importante è che non stringiate troppo e che non lasciate comunque spazio quindi filo senza cristalli una catenella dopodiché di nuovo 9 cristalli quindi 369 avviciniamo mettiamo l'uncinetto dopo l'ultimo cristallino prendiamo e lo facciamo passare attraverso la maglia che abbiamo sull'uncinetto una catenella e di nuovo 3 cristalli 3 cristalli 3 cristalli 9 cristalli prendiamo il filo dopo l'ultimo cristallo lo facciamo passare attraverso la maglia e una catenella lo facciamo un'ultima volta 369 prendo chiudo passando attraverso la maglia una catenella e andiamo andiamo avanti arrivati a questo punto inserendo un totale di otto petali una volta che abbiamo realizzato l'ultimo petalo facciamo una catenella voltiamo il lavoro quindi sarà così ovviamente adesso per le riprese mi rendo conto che può sembrare complicato ma vi assicuro che quando avrete il lavoro in mano sarà semplicissimo cosa andiamo a fare andiamo a fare una serie di maglie basse lavorando una prima maglia bassa all'interno del petalo quindi semplicemente inseriamo l'uncinetto al centro dopodiché facciamo una maglia bassa tra i due petali dove praticamente al giro precedente abbiamo fatto una catenella maglia successiva in mezzo al petalo che si presenta quella dopo tra due petali maglia bassa poi al centro del petalo poi andiamo tra due petali poi al centro del petalo successivo poi ovviamente man mano vi sistemate il lavoro che avete che avete appunto fra le mani in mezzo ai due in mezzo al petalo in mezzo al petalo in mezzo a due petali in mezzo al penultimo petalo ci lavoriamo una catenella a questo punto voltiamo il lavoro e cosa andiamo a fare andiamo a fare tutte maglie basse inserendo però di volta in volta un cristallino quindi ci lavoriamo prendiamo una maglia bassa proprio a cominciare dalla prima prendiamo il filo tiriamo su avviciniamo un cristallino e lo chiudiamo ok e poi di nuovo maglia successiva prendiamo portiamo su avviciniamo un cristallino e chiudiamo i cristalli si possono inserire con la maglia bassa anche con un altro metodo ossia avviciniamo prima il cristallo poi ci andiamo ad inserire nella maglia prendiamo il filo e chiudiamo la maglia bene o male il risultato è simile eventualmente valutate anche di saltare di fare a maglie alterne quindi una maglia bassa vuota una maglia bassa con il cristallino se state lavorando con cristalli da 4 sicuramente dovrete alternare perché altrimenti i cristalli essendo troppo più grandi si toccheranno fra loro e si formerà tutta una cosa insomma non gradevole allora io vado avanti continuo ad inserire i cristallini uno per ogni maglia bassa allora arrivati alla fine del giro facciamo una catenella e andiamo poi a fare delle diminuzioni ci inseriamo nella prima maglia e andiamo a fare una maglia bassa poi andiamo nella maglia successiva prendiamo il filo portiamo su nella maglia successiva prendiamo il filo portiamo su e chiudiamo poi una maglia bassa da sola e poi prendo filo porto su prendo filo porto su e chiudo insieme una maglia da sola poi la diminuzione 1 2 e chiudo insieme poi possiamo fare tranquillamente due maglie singole non c'è problema poi una catenella a questo punto vado a voltare il lavoro e qua vado a fare tutte diminuzioni e ogni volta chiuderò con un cristallo quindi che faccio mi inserisco nella prima mi inserisco nella seconda prendo il filo porto su chiudo con il cristallo mi inserisco mi inserisco prendo il filo porto su avvicino il cristallo e chiudo mi inserisco avvicino il cristallo e chiudo mi inserisco prendo il filo porto su avvicino il cristallo e chiudo e poi di nuovo mi inserisco nella maglia successiva vado in quella dopo prendo il filo e porto su e avvicino il cristallino che vado a chiudere poi se avete una maglia sola prendete e fate una maglia bassa normale e facciamo così adesso noi abbiamo il lavoro in questo modo questo è il retro questo è il davanti che i cristalli si muovano qui non fa niente va benissimo perché ci serve comunque di fare una cosa allegra se volete fare un lavoro preciso di fino e volete una cosa lineare come vi ho detto alternate al primo giro una maglia bassa vuota è una maglia col cristallino in quel caso dovrete andarne a mettere un po' di meno allora a questo punto io mi devo andare a chiudere le due estremità quindi ci mettiamo in questo modo mi inserisco con l'uncinetto in una maglia da questa parte diciamo nella prima maglia mi prendo la prima maglia da questa parte che è dietro l'uncinetto dietro il cristallino pardon prima di chiudere mi avvicino il cristallo e vado a chiudere con una maglia bassissima e faccio la stessa cosa nella parte più sotto prendo inserisco in una maglia da una parte in una maglia dall'altra avvicino poi il cristallino verso di me e vado a chiudere ovviamente voi questa cosa la potreste anche fare con un ago prendete e andate a chiudere ora vado a tagliare il filo mi chiudo un pochino tutto il lavoro per vedere anche com'è venuto e se c'è da sistemare effettivamente mi prendo anche l'ago apribile andrà benissimo ho un ago normale tagliatevi sufficiente filo in modo tale che riuscite a gestire e dico vabbè mi voglio chiudere un po' meglio e quindi mi vado semplicemente a fare una cosa così proprio per essere più più precise e lasciamo in questo modo questo sarà il lavoro una cosa tutta molto spiritosa diciamo così dopodiché ovviamente dovremmo andare anche a tagliare i fili ma ci mettiamo i fili nel rovescio del lavoro poi ripeto vedete voi se avete ancora necessità di chiudere il lavoro se avete lasciato erroneamente una maglia diciamo aperta con l'aiuto del lago potete tranquillamente risolvere ok quindi mi vado per esempio a fare in questo modo dopodiché quando arrivo ad avere un lavoro bello preciso prendo chiudo mi vado a fare il nodino e taglio il filo e poi vado a fare la stessa cosa con quest'altro filo qui me lo porto diciamo che già sta nella parte sotto me lo vado semplicemente a chiudere sempre aiutandomi con con l'ago mi vado a fare un nodino ok poi prendo la colla sul e vado a fare proprio a bagnare leggermente dove ho fatto i due nodini al momento questa parte la lasciamo e andiamo a fare la seconda la seconda è fatta nello stesso modo tranne che per il fatto di inserire i cristalli in questi due giri ma vado a fare gli stessi petali ma invece di farne otto ne farò sette quindi mi lascio sempre il filo vado a fare una catenella mi avvicino tre sei nove cristalli li chiudo una catenella poi poi tre sei nove cristalli chiudo con la catenella una catenella e ne faccio invece che otto ne andrò a fare sette in questo caso una volta che ho fatto i sette petali mi vado a fare una catenella come prima poi volto una maglia bassa in mezzo al petalo una maglia bassa tra i due petali una maglia bassa in mezzo al petalo poi una maglia bassa in mezzo ai due petali una in mezzo al petalo successivo sposto il filo nella codina iniziale poi ci andiamo a lavorare una catenella voltiamo il lavoro e andiamo a fare una maglia bassa in ogni maglia bassa del giro precedente questo filo dice che si vuole mettere in mezzo quindi andiamo a fare maglia bassa maglia bassa maglia bassa e continuiamo così per tutto il giro allora ci facciamo una catenella dopodiché voltiamo il lavoro e qui andiamo a fare le diminuzioni possiamo partire con una maglia singola o direttamente con la diminuzione come volete e quindi andiamo a fare così 1 2 e chiudiamo una da sola una diminuzione 1 2 e chiudo una da sola 1 2 e chiudo una da sola 1 2 e chiudo e una da sola una catenella volto questa volta tutte diminuzioni quindi inserisco inserisco e chiudo inserisco 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 e chiudo tutto insieme inserisco inserisco chiudo inserisco inserisco chiudo in questo caso facciamo anche va bene una maglia bassissima e abbiamo quest'altro modulino a questo punto ci andiamo a tagliare il filo si possiamo comunque già tagliarlo non ha importanza vi faccio vedere anche l'altro metodo con cui possiamo andare ovviamente a chiudere il lavoro che è semplicemente prendere e far passare di volta in volta il filo ripeto potete farlo con l'ago potete farlo col metodo di prima non ci sono delle regole fisse ecco qui ci possiamo anche andare a fare due cioè un nodino o due sono sufficienti ovviamente ci facciamo passare il filo da questa parte nel retro del lavoro oppure potete fare un'altra cosa in realtà ossia il filo lo possiamo per comodità farlo passare sopra perché questa parte poi andrà nascosta quindi magari ce lo facciamo arrivare sopra e andiamo a fare il nodino sopra mi aiuto con un uncinetto un po' più sottile o ripeto con un ago e andiamo a chiudere la maglia se riesco ad infilare l'uncinetto che dice che non vuole entrare ecco qua e ci facciamo il norino va benissimo va benissimo anche qui quindi la stessa cosa la possiamo fare per l'altro filo lo portiamo su e andiamo a fare il minutino a questo punto i due elementi andranno inseriti in questo modo ok e possiamo fare in diversi modi teoricamente se voi volete lasciare anche un po' di spazio potreste inserire una perla tra i due modulini oppure se volete fare un lavoro più ricco potete andare a fare un terzo modulino magari da mettere sotto più piccolino magari con sei petali allora a questo punto entrano in gioco i nostri chiodini io ho preso i chiodini con il gancetto quelli con il gancettino l'andiamo ad attaccare nella parte sopra del modulino che andrà sotto prendete sempre più maglie non una sola quindi inseritelo proprio per bene andiamo a chiudere il modulino poi non vi preoccupate sotto andiamo a sistemare e andiamo a reinserire in questo modo ripeto se voi volete dello spazio ora questa perla magari non è indicata perché è proprio tanto grande immaginate da un po' più piccola possiamo fare una cosa del genere ripeto questa è molto è troppo troppo grande eventualmente anche un cristallo da 6 millimetri ed ecco qui vedete molto molto carino allora le modalità con cui possiamo realizzare questo orecchino sono diverse io qui ho fatto una lavorazione non voglio dire rigida perché rigida non è la parola corretta ma che rimanga abbastanza stabile se voi volete un orecchino più mobile saranno necessari diciamo più chiodini in modo tale da rendere separati gli elementi che andiamo a mettere sopra poi magari nel come realizzo il prossimo orecchino vi faccio proprio vedere quello che intendo allora qui mi vado ad inserire i due elementi ho inserito un cristallino così di bellezza giusto per separare allora una volta che abbiamo inserito i nostri elementi andiamo a fare l'anellino possiamo fare o quello con il nodo da orefice oppure l'anellino semplice andiamo dato che questo chiodino è rigido andiamo a fare l'anellino semplice quindi io lo piego a 90 gradi mi vado a tagliare l'eccesso poi riprendo le pinze e vado a far formare una solina molto molto semplice ok e questo va benissimo così poi prendiamo il nostro la nostra monachella e anche qui a seconda della mobilità che voi volete dare all'orecchino potete o agganciare un anellino al qui all'orecchino oppure andare direttamente ad inserirlo in questo modo e quindi abbiamo questo risultato diciamo l'orecchino è un po' più stabile si muove si muove meno ecco qui con delicatezza per non rovinare la monachella e abbiamo il nostro orecchino questo è il risultato che io volevo ottenere per non avere un orecchino eccessivamente mobile però questione di gusti io ora vado a fare il secondo orecchino e vi dico un po' qualche variante allora ecco realizzati altri due modulini ora andiamo a vedere cosa possiamo fare modificando leggermente il progetto come vi dicevo per rendere l'orecchino più mobile ok allora andiamo come sempre come abbiamo fatto prima ad inserire la nostra maglia il nostro chiodino all'interno delle maglie del del modulino che sta sotto lo andiamo a chiudere lo inseriamo in quello di sopra in questo caso ad esempio io comunque mi metto una allora si andava il cristallino aspettate avevo messo arancio poi metto la pallina magari mi vado a rimettere anche un altro cristallino in questo caso io vado a fare in questo modo chiudo poi mi rigiro il chiodino me lo vado a tagliare si l'ho fatto anche troppo lungo e andiamo a chiudere con l'anellino poi prendiamo un altro chiodino per questo quest'altra parte ovviamente voi ripeto potete utilizzare tranquillamente un fiore una pietra una perla un qualsiasi elemento che insomma desiderate e che avete comunque a disposizione fra i vostri materiali creativi ecco qui vado a chiudere taglio mi vado a fare un anellino anche questo cercate di non farli proprio troppo grandi perché l'anellino è bello abbastanza piccino accostato al resto del lavoro mi vado ad inserire l'altro la parte sotto e poi mi prendo la monachina e vado ad agganciare le differenze quali sono ovviamente sarà anche la lunghezza poi ovviamente una volta indossato rimane meglio sarà la lunghezza vedete e ovviamente il fatto che questo è più mobile quando viene indossato rimane più ora il video è da questo lato quindi difficile farvi vedere bene ma il lavoro è più morbido mentre questo rimane più diciamo più stabile qui c'è il gioco mentre qui il gioco non c'è perché è un unico chiodino quindi voi andate a scegliere quella che è la soluzione per voi migliore ecco qui io devo dire che ho fatto un anellino non tanto bello andiamo a rimediare subito ecco qua e quindi ripeto scegliete quello che voi preferite io vado a fare in questo modo quindi ora vado a sostituire i chiodini e ci vediamo fra un attimo allora eccoci tornati gli orecchini sono completati che li vogliate realizzare multicolor a tinta unita i colori dico sempre sono una cosa totalmente personale quindi ognuno sceglierà quelli che preferisce come vi ho detto già più volte durante questo tutorial da decorare nelle maniere che preferite sono davvero molto semplici a me piacciono molto quindi spero che anche a voi siano piaciuti questi orecchini Elena non mi resta che salutare e ringraziare tutte le amiche di Bia ed Abilmente e ci vediamo presto con un nuovo tutorial ciao grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.